Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Master Dash Oggi siamo su Sneak Thief che è un gioco molto bello E anche educativo eh, non per dire Non vedete il gioco, appunto Volevo salutare due persone ragazzi Che mi hanno chiesto di essere salutati su Youtube Saluto, saluto Ilaria Golosa Gelataia E poi saluto Ambra, la mia grande amica Ambra Non pensate cose strane Poi ragazzi, sapete Sherry Quella che ho salutato nello scorso video Mi ha fatto una fanata Che è Questa ragazzi Che è molto, molto, veramente bella Però Adesso passiamo al gioco Che non ho fatto video per tre giù Tre Iniziamo Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Master Dash Oggi siamo su Sneak Thief Un gioco dove devi rubare in casa o in banca le persone Minchia, sono il migliore E c'è La L'invasione In casa La banca Lo yacht Casa gigante E il diamante E il diamante Direi di iniziare con Home in banca Oh Allelu Madonna come va Ho visto Già qui Ok Apriamolo qui dentro Prendiamo Prendiamo questo Prendi i dipinti Che mi serviranno Per andare per l'arte Bellissimo Anche se il ladro non si farà niente Però in fondo Siamo Non è che rubiamo Mi sono un ladro Basio Che mi sembra molto Che mi sembra molto Che mi sembra 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 tantissimo Cazzo È arrivato il proprietario Cosa ci fanno Di domenzi Baccai Un tablet Quasi simile al mio Ragazzi Sento dei passi Ragazzi La prendo come una femmina Oh Tostiera Mouse Ok Che Caffo Non tenevronne un armario Cazzo Prendi i documenti Cari Bellissimo Ok Non abbiamo preso Prendi i documenti Ci abbiamo preso Prendi i documenti Pochissimi Ok Ma che c***o Un anello C'è C'è un anello Un radio Dime che c'è una Passport Un radio No però Tiene dei Gotti d'oro Non so Ancora meglio Oh Ok Posso andare Posso andare Credo che posso andare Ragazzi Credo ci passi Ma non è ancora arrivato Vai 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 Mi dispiace ragazzi Non so correre Se Ce l'abbiamo fatta Allora controlli Vediamo un attimo come Ci possiamo Correre Ok Benissimo Non è cambiato Benissimo Allora andiamo Tanto il tempo a noi Non ce ne frega niente Entriamo Chiedo che in banca Potremmo Interarci almeno Salve signora Vuole un bacio stellare? Copiata Copiata da una mia amica di classe Non so Scusi Oh scusi Chissà quanto l'avrò pagato Oh molly No 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 Cazzo Cazzo Meno Meno 216 Ma che 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 Si Invece andiamo dal retro No ragazzi Non c'è un modo Per farlo andare veloce Tipo Non Vuole correre Entriamo qui dentro Grazie che me la porta Mi ha spinto Togliamo l'allarme Benissimo Dimmi che c'è qualche arma Si può sparare con Muori faccia di merda Dov'è? Dov'è sono? No Sono tipo Serio Tutti di solo Cazzo Come non d'accordo? Vabbè Spero che a video Vi sia piaciuto Che mi è stato lasciato Like Com'è dei video Commentate Iscrivetevi al canale Se non avete ancora fatto Superiamo i 3 like Per il prossimo video Di Slick Thief E noi ci vediamo Al prossimo video I don't know what's worth fighting for Or why I have to scream I don't know why I instigate And say what I don't mean